Amanti delle zeppole, questo dovete assolutamente provarlo. Oggi prepariamo lo zeppolone. Per preparare lo zeppolone serviranno 150 g di farina 00, 240 g di acqua, 3 uova, 60 g di burro, un pizzico di sale. Per farcire invece una dose della mia crema pasticcera, quanto basta di marina sciroppata e quanto basta di zucchero a velo. Iniziamo la preparazione versando l'acqua all'interno di un pentolino. Aggiungiamo quindi un pizzico di sale e il burro e facciamo andare a fiamma media, mescolando con un cucchiaio così da far sciogliere completamente il burro. Quando si formeranno delle bolle possiamo aggiungere tutta la farina 00 e inizieremo quindi a mescolare velocemente con il cucchiaio. Piano piano inizierà a prendere forma un panetto che diventerà sempre più compatto e inizierà a staccarsi dalle pareti del pentolino. A quel punto quindi possiamo trasferire il panetto all'interno di una ciotola, lo allarghiamo un po' e facciamo intiepidire. E' il momento di aggiungere le uova, le aggiungeremo uno alla volta, lavorando con la forchetta così da incorporarlo al nostro panetto. Solo quando l'uovo sarà stato incorporato completamente potremo aggiungere il successivo e continueremo così fino a quando avremo incorporato tutte le uova. e continueremo a lavorare con la forchetta fino ad aver ottenuto un composto elastico, proprio così. Lo trasferiamo quindi all'interno di una sac a poche munita di punta a stella aiutandoci con un bicchiere. Prendiamo ora un foglio di carta forno posizionato su una teglia e aiutandoci con una ciotola creiamo un disco. In questo modo capovolgiamo quindi la nostra carta forno. Seguendo la traccia che abbiamo disegnato possiamo iniziare a creare il primo disco di pasta. Ne creeremo poi un altro andando verso l'interno e continueremo in questo modo realizzando anche il terzo. Creiamo quindi un altro giro sopra quelli appena realizzati e il nostro zeppolone potrà andare in forno tra il riscaldato statico a 200 gradi per 30 minuti e successivamente a 180 gradi per 20 minuti. Terminata la cottura apriamo un po' lo sportello e facciamo infiepidire. Una volta sfornato eccolo qui il nostro zeppolone. Quando sarà completamente freddo potremo tagliarlo a metà utilizzando un coltello seghettato e lo trasferiamo sul piatto da portata. Togliamo momentaneamente la parte superiore e iniziamo a farcire. Farciremo utilizzando una sacca a poche con punta stella utilizzando della crema pasticcera di cui trovate la ricetta su tourlorosso.it Creiamo quindi uno strato di crema pasticcera e aggiungiamo le amarene sciroppate nella quantità che più preferite. Non ci resta quindi che sovrapporre la seconda parte del nostro zeppolone e quindi creare delle decorazioni sempre utilizzando la crema pasticcera. Realizzeremo dei simpatici ciuffetti di crema e al centro posizioniamo una amarena sciroppata. In questo modo. Non ci resta quindi che terminare decorando con dello zucchero a velo. Terminata la decorazione il nostro zeppolone è pronto da portare a tavola. Guardate un po' che meraviglia! Farete sicuramente un figurone e poi è così buono che finisce sempre in un attimo. Come diciamo sempre, da provare! Ora io come sempre vi do appuntamento alla prossima. Ciao!